Tre morti nell'attacco uti a una nave mercantile nel golfo di Aden. I ribelli iemeniti attaccheremo fino alla fine della guerra a Gaza. Israele attacca il centro della striscia di Gaza. Almeno 15 morti. Tel Aviv annuncia la costruzione di 3.500 nuove case per i coloni in Cisgiordania. Haiti paralizzata dalla violenza delle bande armate. Pressioni internazionali per trovare una soluzione politica. L'ONU intervenire con un'azione rapida e decisa. Colpevole di omicidio colposo l'armaiola del film di Alec Baldwin per la morte della direttrice della fotografia. È di almeno tre morti e quattro feriti, di cui tre in gravi condizioni. Il bilancio dell'attacco alla nave mercantile True Confidence, di proprietà greca ma battente bandiera delle Barbados, colpita mercoledì 6 marzo da un missile balistico nel golfo di Aden. Tra le vittime, un vietnamita e due filippini. La conferma è arrivata dal Dipartimento dei Lavoratori Migranti delle Filippine. Il missile è stato lanciato dalle milizie iemenite UTI, mentre la nave transitava a circa 50 miglia nautiche a sud-ovest della città portuale di Aden, nello Yemen. In seguito all'attacco, l'equipaggio ha abbandonato la nave. Tra le condanne dell'attacco, quella del portavoce del Dipartimento di Stato statunitense Matthew Miller, che durante un briefing con la stampa ha promesso una risposta. Un portavoce degli Iuti ha invece ribadito che il gruppo ribelle iemenita continuerà a condurre attacchi contro le navi legate a Israele in Mar Rosso, fino alla fine della guerra a Gaza. Almeno 15 persone sono state uccise nella zona centrale di Gaza mercoledì sera. Due attacchi aerei hanno colpito diversi edifici a Deir al-Bala, mentre uno ha colpito il campo profughi di Nuseirat. I corpi delle vittime, tra cui quattro donne, sono stati portate all'ospedale Al-Aqsa. Secondo le prime notizie, diverse persone risultano ancora disperse sotto le macerie. Giovedì si entra nel sesto mese di guerra. Secondo le Nazioni Unite, l'isolamento imposto da Israele agli abitanti di Gaza ha fatto sì che al momento un quarto della popolazione si trovi a un passo dalla carestia. È tragico, ho stato in diverse missioni, questo è stato il più terribile e horrifiche che ho visto nella mia vita. E credo che la umanità di tutti noi di fare qualcosa per stoppare questo. Avete visto in televisione e tutto questo, ma sinceramente viviamo ogni giorno per 13 giorni in Gaza. E non è facile. Intanto il governo israeliano ha approvato mercoledì la costruzione di 3.500 nuove unità abitative in tre diversi insediamenti illegali nella Cis Giordania occupata. I nuovi insediamenti vanno ad aggiungersi al numero record di unità abitative già approvato lo scorso anno, per un totale di 18.515. Nonostante il conflitto in corso in Ucraina, già prima dell'invasione russa, Kiev noschierava molte unità navali da guerra. La produzione nazionale si starebbe ora concentrando sulla fabbricazione di droni marini, imbarcazioni indipendenti senza pilota, che possono navigare sull'acqua tramite telocomando o autonomamente e che possono essere dotati di missili. Presentato dal servizio di sicurezza ucraino, l'ultimo modello di Sea Baby, il drone marino è in grado di trasportare più di una tonnellata di esplosivo, può viaggiare a una velocità di 90 km orari e coprire una distanza superiore a 1000 km. L'Ucraina sostiene di essere il primo paese, ad aver creato un'arma simile per un costo di circa 221 mila dollari. Sea Baby viene progettato e testato nel paese, alcuni componenti sono però importati dall'estero. Haiti è ancora paralizzata dalla violenza delle bande armate in protesta contro il primo ministro ad interim, Ariel Henry. Mercoledì i politici hanno iniziato a confrontarsi alla ricerca di una coalizione che possa guidare il paese verso nuove elezioni, come chiesto dagli Stati Uniti. Anche l'ONU è intervenuta. Sulla crisi haitiana puntano gli occhi anche i leader della Caribbean Community, che hanno presentato ad Henry diverse soluzioni politiche, tra cui le sue dimissioni, sempre più richieste, il primo ministro ha rifiutato. Una migliore qualità e prezzi più bassi delle droghe nell'Unione Europea stanno mettendo a dura prova la lotta contro il narcotraffico. Questo è il principale risultato di un'analisi annuale sui mercati europei della droga. I dati diffusi rivelano anche una minaccia per la prevenzione. L'organizzazione belga Infor-Drogs and Addiction riceve 2000 chiamate all'anno dai consumatori preoccupati per possibili dipendenze. La maggior parte di loro riguarda la marijuana. E nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea l'uso di cannabis è illegale, ma recentemente la Germania si è mossa verso la legalizzazione per usore creativo. Ciò potrebbe avere un impatto sulla prevenzione. La maggior parte dei prodotti è legale. Ci sono già alcuni paesi dell'Unione con leggi più permissive. Malta è l'unica che ha legalizzato il suo uso. Ma Lussemburgo, Spagna, Portogallo o Paesi Bassi consentono o tollerano l'uso privato. Il mercato europeo della droga vale complessivamente 31 miliardi di euro. La cannabis è la droga con la più grande quota di mercato. Rappresenta il 39% del totale, 12,1 miliardi di euro. Seguita da vicino dalla cocaina con un 37% del totale, 11,6 miliardi. E ora in aumento a causa della maggiore disponibilità. In più, c'è più droga. Gli spacciatori devono lottare per la loro quota di mercato, fatto che accresce la pericolosità per i cittadini. L'increase in drug-related violence is general everywhere in Europe. Certamente there is a huge pressure on the different actors of the illicit drug market. And this violence has partly been boosted by the huge increase in the availability of cocaine on the drug market in the recent years. Even if the drug-related violence started slowly but surely 10-15 years ago around the cannabis market in Europe. E' il caso del Belgio. Negli ultimi tempi la violenza delle organizzazioni criminali è cresciuta. Nel mese di febbraio ci sono state circa 10 sparatori a Bruxelles, una delle quali ha causato una vittima. L'attrezzista cinematografica di Rust, il film di Alec Baldwin, è stata dichiarata colpevole di omicidio involontario per l'uccisione della direttrice della fotografia Alina Hutchins, avvenuto sul set nel 2021 per mano dell'attore. Hannah Gutierrez-Reed si è dichiarata innocente e ha riferito che farà ricorso in appello. Rischia fino a 18 mesi di carcere e una multa da 5.000 dollari. La giuria si è trovata ampiamente d'accordo sulla negligenza professionale dell'armaiola. Baldwin, attore protagonista e coproduttore del film western, stava puntando una pistola in direzione della direttrice della fotografia durante una prova sul set cinematografico fuori Santa Fe, quando è partito un colpo che l'ha uccisa e ha ferito il regista. Baldwin si è sempre dichiarato innocente, sostiene di non aver premuto il grilletto dell'arma, ma che il colpo sarebbe partito da solo. Lui avrebbe solo impugnato il revolver per provare un movimento. L'attore è stato accusato di omicidio colposo e sarà processato a partire dal 9 luglio. A quasi cinque anni dall'incendio che devastò la cattedrale di Notre-Dame di Parigi, continuano i lavori di ristrutturazione, in vista della riapertura in programma per il prossimo 8 dicembre 2024. La navata della cattedrale ospiterà 1.500 sedie di design traforate in rovere massiccio, prodotte da una falegnameria di Aghetmau, cittadina nel Dipartimento delle Land, nella regione della Nuova Aquitania. Il legno scelto è stato essiccato per tre anni prima di produrre le sedie. Alla ITB di Berlino, una delle maggiori fiere mondiali del settore, si conferma una delle tendenze del momento in fatto di viaggi, la ricerca di destinazioni meno note. Il turismo di massa crea problemi alle stesse mete, in Grecia per esempio. L'acropoli di Atene ha messo un tetto ai visitatori, massimo 20.000 al giorno, ma l'idea è proprio di individuare alternative di valore, come Tunisi invece dell'isola greca di Santorini, o i canali di Ljubljana e Slovenia, anziché quelli di Venezia. I numeri del turismo sono tornati ai livelli precedenti alla pandemia. Prezzi e affitti, così come inquinamento e disagi per i residenti, sono di nuovo alle stelle. C'è vero che a un certo momento la Tunisia è stata perciata in quanto destinazione di turismo di massa, di sur-turismo, ma là questo modello o questa immagine, ovviamente, è stata migliorata grazie a un lavoro, a un esplorio di tutti gli attori dell'ecosistema turistico in Tunisia. Ecco perché Amsterdam sta alzando le tasse di soggiorno, l'Islanda pensa a una tassa ambientale per i turisti, la Francia invece ha un incentivo per mandarli nell'80% del paese meno visitato. Destinazione duping è non solo beneficio per i residenti di città e indiscoperti, ma anche può aiutare l'ambiente. Con il prezzo di flore soare, i passi sono incontro a questa nuova trend che può aiutare per meno. Liv Stroud, in Berlino, per Euronews. Grazie.